Ciao ragazzi, ecco un'altra storia, è un altro sito che mi piace molto per poter scaricare. Devo poter scaricare musica, è questo qua, incompetech.com, musica.com, senza licenza. E' che da qua c'è il download, da qua potete ascoltare l'anteprima come sto facendo io, adesso e da qua lo potete guardare anche su YouTube, e quando da qua vi manda il link su YouTube. Ho un guang, questo è un ottimo sito per scaricare questi video, il sito è questo qua. Grazie a tutti.